La solennità di Cristo Re è stata anche la giornata del seminario, un'occasione anche per fare il punto sul seminario metropolitano con il direttore Don Federico Pigoni. Sì, per noi è sempre una giornata molto bella, è la giornata del seminario tra l'altro nella solennità di Cristo Re. In questa occasione abbiamo avuto tre conferimenti di accolitato, Simone, Aldo e Federico che hanno ricevuto l'accolitato, un ministero istituito laicale ma in questo caso diventa una tappa verso l'ordinazione diaconale sacerdotale e il conferimento di un lettorato, Mattia, quindi un momento di festa per il seminario e anche un momento per ribadire nell'occasione, a circostanza della celebrazione eucaristica, la bellezza di lasciarsi guidare dal Signore nella propria vita. Quindi anche un'occasione per tutti i ragazzi giovani presenti e anche i ragazzi giovani presenti nelle domeniche, nelle messe di quella solennità, nelle nostre parrocchie, la bellezza di poter dire il proprio eccomi, si compie me secondo la tua volontà, la frase di Maria all'angelo, lasciarsi guidare dal Signore, in particolare nella giornata del seminario per tutti coloro che sono chiamati alla vocazione sacerdotale, il vincere la paura, il non temere, il fidarsi del Signore. Chiediamo di pregare per i giovani perché trovino la loro strada, la loro via di santità e certamente anche davvero di non aver paura di provocarci e provocare i giovani alla chiamata del Signore. Vale per chi ha già una vocazione configurata, essere confermato nella propria vocazione e vale anche per i giovani che stanno cercando la strada di sequela Cristo, dove il Signore li chiama, come il Signore li chiama. Quindi chiediamo veramente a tutte le comunità di sentirsi protagoniste anche di queste vocazioni sacerdotali. Credo che sia un tempo da una parte certo complesso, difficile, mettono paura i fatti accaduti, le stragi accaduti in questi giorni, ma io credo che è proprio in questo tempo in cui il Signore ci chiama ad avere ancora più coraggio, più forza e più fiducia nello Spirito Santo. Parliamo anche di numeri, quanti sono i seminaristi attualmente a Modena? Sì, i seminaristi presenti a Modena sono 18, di cui 5 di Carpi e gli altri 13 sono seminaristi modenesi. Nella nostra diocesi sono entrati quest'anno tre nuovi seminaristi e in più abbiamo avuto anche il dono di due ordinazioni sacerdotali e tre ordinazioni diaconali, quindi siamo molto contenti anche di questo tempo in cui lo Spirito Santo insomma è all'opera e anche la generosità dei ragazzi credo che sia all'opera. E dicevo appunto 5 seminaristi anche di Carpi perché sono presenti tradizionalmente ormai da tanto tempo nel nostro seminario di Modena ed è anche bello questo connubio perché ci aiuta anche a confrontarci, a vivere insieme come due diocesi appunto sorelle unite già nella preparazione dei seminaristi. In più in questo gruppo di seminaristi abbiamo quattro seminaristi che provengono dall'India, dal Kerala, due seminaristi che sono appunto del seminario di Modena e due seminaristi del seminario di Carpi, quindi anche questo confronto nella nostra situazione culturale proprio delle nostre chiese locali è prezioso perché ci apre a una realtà apparentemente lontana, quella dell'India e dell'Oriente, ma in realtà molto vicina a noi, ci apre anche ad avere un cuore insomma aperto a quelle appunto chiese, quel mondo cristiano che vive già nel nostro territorio e ci aiuta a metterci a confronto con culture diverse.